Buona giornata e buona domenica, ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di Udinese TV. Tutti i giorni alle 7, andiamo a leggere insieme i titoli dei giornali, ma vediamo anche le primissime notizie del mattino. Ma intanto diamo uno sguardo alle webcam con l'occhio di promoturismo sulla nostra regione per dare uno sguardo anche alle condizioni meteo prima di farci confermare le previsioni di oggi da Elisa Febbo. Qui siamo a Monfalcone, vedete il cielo è parzialmente coperto, tuttavia c'è anche un po' di sole che fa capolino tra le nuvole. Qui siamo invece a Grado dove la spiaggia è attrezzata e preparata per accogliere eventualmente i bagnanti, ma tutto dipenderà naturalmente dalle condizioni del tempo. Anche in questo caso cielo è coperto, ma un barlume di sole all'orizzonte. Qui invece il monte Lussari, suggestivo come sempre per una giornata che si annuncia incerta. Andiamo a farci confermare quelle che sono le previsioni di oggi da Elisa Febbo. Ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni meteo del Friuli Venezia Giulia di domenica 7 giugno. Nuvolosità variabile, più intensa sui monti. Saranno probabili temporali sparsi con piogge anche abbondanti. Meno frequenti e probabili sulla costa dove soffierà vento da sud moderato. Temperature. Sulla costa le minime saranno comprese tra 16 e 18 gradi, le massime tra 21 e 23 gradi. In pianura le minime saranno comprese tra 15 e 17 gradi, le massime tra 21 e 23 gradi. A 1000 metri 13 gradi, a 2000 metri 7 gradi. Grazie per essere stati con noi e a domani con le previsioni meteo. Cominciamo subito con le notizie. Andiamo a vedere il sito dell'agenzia ANSA per aprire questa nostra rassegna dove si parla della manifestazione che si è tenuta a Washington e New York con migliaia di persone a manifestare dopo l'omicidio di Floyd. L'uomo di colore morto a Minneapolis dopo essere stato fermato dalla polizia. Migliaia a Washington e New York, l'America vuole respirare. Andiamo a vedere anche le ultime ore dove l'ultima si riferisce proprio a questo caso. In caso delle 4 e 22, Trump voleva 10 mila soldati, ma il Pentagono e le Forze Armate hanno respinto le richieste del Presidente. Trump voleva un dispiegamento di 10 mila soldati per le stadie di Washington e di altre città americane per spegnere le proteste. Il Presidente avrebbe avanzato la richiesta in un meeting alla Casa Bianca lunedì, ma questa sarebbe stata respinta dal segretario alla difesa Mark Esper e dal capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Americani Mark Milley lo riportano diversi media degli Stati Uniti citando fonti del Pentagono. Esper alla fine mise a disposizione circa 1.600 militari nella regione di Washington pronti a supportare i 5.000 uomini della Guardia Nazionale. Questi tumulti che si stanno verificando negli Stati Uniti dopo il caso della morte di George Floyd per la quale ha accusato un agente di polizia di Minneapolis. Qui siamo sul TG Com 24 dove l'apertura anche in questo caso è per la manifestazione di protesta di ieri. Migliaia in marcia contro il razzismo Washington. Casa Bianca isolata. La scritta Black Lives Matter. Andiamo a vedere invece l'ultima ora. Trump voleva impiegare 10 mila soldati. È la stessa che abbiamo visto anche sull'agenzia ANSA. Queste sono le notizie più importanti di questa mattina. Non c'è altro. Non ci sono notizie di cronaca da segnalare. E dunque andiamo subito alla lettura dei giornali. Partiamo dal Corriere della Sera. Andiamo a leggere della situazione politica interna con il Premier Conte che dice di non temere di cadere. Non temo di cadere. Pa dal Premier scelte urgenti. Non scavalco nessuno. Il PD un piano per i fondi dell'Unione Europea. I dati sulle regioni meno casi. Ma l'epidemia non è sparita. In Lombardia l'indice di contagio sale a 0,91. Ma ricordiamo che è pur sempre sotto l'1. In Basilicata è 0. Vedremo dopo sul gazzettino che ha pubblicato una mappa interessante di quella che è la situazione dei vari indici e della pericolosità. Mettiamola così del virus nelle varie regioni del nostro paese. Passiamo adesso alla Repubblica dove in apertura leggiamo degli 800 mila dimenticati. Uno su dieci non ha ricevuto un euro dalla Cassa Integrazione. Il Ministero promette di intervenire dopo le critiche del PD a Conte. L'avviso di Zingaretti serve una linea. Non possiamo sbagliare. Dai comuni ai sindacati l'allarme per i pochi fondi alla scuola. Le diseguaglianze se le donne e gli under 34 sono i più colpiti dalla crisi. E poi andiamo a vedere da quest'altra parte perché non sarà il plexiglass a salvare l'istruzione. Si parla del prossimo anno scolastico. Si sta decidendo con quali modalità far seguire in presenza le lezioni agli studenti. È venuto fuori anche questa del plexiglass a dividere gli alunni tra i banchi. Vedremo come andrà a finire anche questa vicenda. Intanto con l'approvazione del DL Scuola si è chiuso almeno per quanto riguarda questa stagione il discorso con le procedure per gli esami e per tutto ciò che c'è da fare per concludere l'anno scolastico bloccato a un certo punto a casa del lockdown proseguito a casa con didattica a distanza. Qui siamo sul manifesto dove il titolo è l'urlo. Siamo a Washington dove c'è stata ieri la manifestazione, la marcia per protestare contro il razzismo. Proprio di scuola si parla in prima pagina anche sul manifesto dove c'è una foto della ministra Azzolini al decreto ora in legge ma domani è già sciopero dopo due giorni di istruzionismo delle opposizioni. Ieri l'ultimo voto sul DL Scuola, poi la firma del Colle, domani sciopero dei sindacati ma nel post pandemia cresce un nuovo movimento, l'idea dell'unione tra educazione e salute, apriti scuola, a Roma genitori, bambini e prof portano l'istruzione in città. Andiamo a vedere adesso il gazzettino. Il gazzettino in apertura titola Via Libera agli aeroporti veneti. Questo è sicuramente un dato importante per quanto riguarda la movimentazione dei turisti. L'Agenzia Europea per la Sicurezza ha tolto gli scali regionali dalla lista di quelli ad alto rischio contagio. Cadono restrizioni e obblighi di test o quarantene. Nell'assessore Caner dice scelta decisiva per il turismo. A centro pagina ecco qui il focus, l'esame sarà orale in presenza con la commissione. Vedete anche i banchi con questa simulazione dei banchi con un box di plexiglass a isolare completamente l'alunno, lo studente, dal proprio vicino di banco. Di questo si è parlato. Via Libera, il decreto sulla scuola approvata dalla Camera con 254 voti a fuori e 122 contrari. Il testo è legge. Nella foto l'esperimento di una scuola di Bergamo divisore in plexiglass sui banchi ma è solo una prova per farsi un'idea, è quello che ha detto la preside. Il caso medicina, Zaia, vado avanti, il governo frena. Il sottosegretario Martella dice ci saranno tutte le condizioni per aprire Treviso. Il governo ha impugnato la legge veneta che istituisce il corso di laurea in medicina e chirurgia a Treviso. Ebbene il presidente della regione non farà passi indietro, andrà avanti. E poi una curiosa inchiesta del gazzettino che ha riportato questo dato, infedeltà e virus, boom di investigatori nel periodo del lockdown. Sono venute fuori evidentemente un po' di cosette da far verificare. E poi c'è questa bella storia invece di due anziani, 88 anni lei, 95 lui, lui e lei, l'amore in casa di riposo, si rivedono dopo la quarantena. Vedovi entrambi, Vittorio e Giuseppe, si sono conosciuti 5 anni fa alla casa di riposo Padre Colbe di Pedavena e da quel giorno sono diventati inseparabili. A causa del lockdown non potevano più vedersi, si sono rivisti dopo la fine del blocco, l'allentamento delle misure di prevenzione da contagi. Il giornale titola Il Governo, lo ammette, Sanità Lombarda al top. La ricerca del Ministero smentisce le critiche al sistema pubblico privato, l'odiatore di Milanesi nella task force anti-odio di Conte. La verità vince sul fango, scrive il giornale. Poi vedete qui la foto dell'ex magistrato Carofiglio, il fustigatore della destra che suda, l'ex magistrato condanna a senso unico. Gianrico Carofiglio, ex senatore del Partito Democratico, definito una penna radical chic. Da quest'altra parte il PD guarda a forza Italia e il centro-destra traballa, alta tensione con Salvini. E poi andiamo a vedere qui della rabbia a Roma, ultra e forza nuova, scontri e arresti nella piazza nera. Libero, apre con questo titolo, non ci resta che pedalare, aiuti solamente per le biciclette, PIL sotto zero, imprese K.O. Però il Governo pensa che la ripresa passi dalle due ruote, come se tutti fossimo fighetti da centro storico. Intanto sono già terminati i soldi stanziati per il bonus, il famoso bonus per le biciclette, a quanto pare già è stato esaurito. Qui vediamo al centro della pagina due, due casi, quello di Beppe Grillo che torna sul ring per contare ancora qualcosa e poi Balotelli si è bruciato, licenziato anche da Brescia. Andiamo sulla verità. Italia al palo, ripartono soltanto le organizzazioni non governative, si prepara un autunno drammatico, in 600.000 attendono ancora la cassa integrazione di marzo, i poderosi prestiti promessi sono stati erogati a un'impresa su quattro, per il credito d'imposta ci sono fondi appena per un'azienda ogni 100 che ne fanno domanda, mentre il Governo litiga sulla farsa degli stati generali, i tassisti dei migranti riprendono l'attività a pieno ritmo. Lampedusa e Sicilia già scoppiano. E poi la scuola riaprirà con 27.000 prof in meno, è la foto della Ministra Azzolina, finita in queste settimane nella bufera. Mercato dei giudici, così si fa una nomina nella chat di Palamara, la cronaca minuto per minuto delle trattative per un posto ambito, pressioni, abboccamenti, concessioni, la miglior spiegazione di che cosa sia il correntismo in magistratura. Qui andiamo sulla stampa a leggere l'apertura che è sulla manifestazione a Washington, Washington in marcia per Floyd, assediati i palazzi del potere, ci sono due fotografie, una riguarda la manifestazione a Washington, da quest'altra parte invece incontro in piazza Castello a Torino, sempre per la stessa motivazione, da Torino a Ottawa, per la razza umana. L'allarme degli psicologi, lockdown, allarme bimbi, gravi danni psicologici, dopo il blocco che li ha visti chiusi in casa per più di due mesi. Londra e lo Ior, vi spiego la guerra vaticana, l'ultimo scandalo oltretevere, il Vaticano ha ordinato l'arresto di un suo consulente che si occupava di una trattativa per acquisire un immobile per conto del Vaticano a Londra. Qui andiamo a vedere il fatto quotidiano, l'apertura è per la sanità lombarda e in questo caso il fatto quotidiano accusa e dice Lombardia l'appalto dei camici alla moglie e al cognato di Fontana, domani a report in piena pandemia la regione fattura 513 mila euro a Dama, Spa senza gara, le repliche a nostra insaputa. Poi i disastri, mascherine e diasorin, aria S.P.A. la notte dei lunghi dossier, Forza Italia contro la Lega, Fiera Milano, l'ospedale Flop, ultimi tre pazienti Alberto Laso, Hospital, poi chiude Bottega. Questo il fatto quotidiano. Prima di chiudere la segna nazionale vediamo anche il titolo del Sole 24 Ore, il quotidiano economico finanziario, bar, alberghi e studi professionali, scatta subito il bonus affitti del 60%, via libera la compensazione con IMU e altre imposte, leasing finanziario escluso, cassa integrazione, manca l'11% dei pagamenti INPS, prestiti fino a 25 mila euro, domande per 10 miliardi. Questa è la prima del Sole 24 Ore. Adesso andiamo a vedere i giornali locali, cominciamo con il messaggero di Udine, vediamo la prima pagina, la Slovenia non cede come altri paesi dell'Unione Europea, riaprirà il 15 giugno. Il ministro Di Maio e Ljubljana capisco la prudenza sugli spostamenti, resta il problema con l'Austria, che limita l'afflusso di turisti in Friuli-Venezia-Giulia. Quindi fra una settimana, almeno con la Slovenia, ci potrà essere un libero scambio di passaggi da una parte all'altra. Per ora noi possiamo accogliere gli sloveni che arrivano in Italia, perché abbiamo aperto le nostre frontiere, ma gli italiani non possono andare in Slovenia, non possono transitare per la Slovenia, e con l'Austria stessa cosa. La Slovenia ha detto però che aprirà il 15 giugno, l'Austria a quanto pare sarebbe intenzionata ad arrivare addirittura a fine mese. Staremo a vedere, il ministro Di Maio ieri è stato a Ljubljana, non è riuscito a spuntare, un'apertura anticipata. E poi si parla di ancora due vittime che si sono purtroppo registrate nella casa di riposo di Paluzza, dove i decessi sono arrivati a 20. Qui invece la manifestazione di protesta che abbiamo documentato ieri nei nostri telegiornali fin dal mattino, con genitori e insegnanti in piazza per la riapertura delle scuole. Poi i casi di cronaca, qui un austriaco uccide l'ex moglie e un'amica, poi si suicida a Tarviso. C'è stato anche un altro caso di cronaca che avevamo documentato, quello di una sparatoria che è avvenuta nei campi a Mortegliano con un uomo gravemente ferito. Vediamo la pagina della città di Udine, l'apertura della cronaca cittadina, dove lo spazio principale è dedicato alla manifestazione per la scuola che si è tenuta ieri mattina e della quale vediamo alcuni scatti, ma vi abbiamo mostrato immagini e interviste ieri di ciò che è avvenuto in piazza San Giacomo per sollecitare l'apertura delle scuole. Scuola reale, non virtuale, genitori e insegnanti invocano la riapertura ed erano in centinaia presenti in piazza ieri mattina qui a Udine. Adesso ci spostiamo sul messaggero di Pordenone, l'apertura è identica, cambia la spalla, dove si parla di cantieri aperti e nuovi lavori, opere che valgono 42 milioni. Ed ancora a Sacile, Monsignor Mazzarotto, 70 anni di sacerdozio, era amico di Luciani. vediamo anche la prima della cronaca cittadina di Pordenone, la giunta guarda avanti e riprende l'articolo di spalla che abbiamo anticipato in prima pagina, opere per 42 milioni, prime idee per il BIS, l'emergenza legata al Covid, non ha bloccato i lavori pubblici e la mobilità. Ciriani di centro, il mandato studi di fattibilità per i quartieri e i cantieri di pensiero. Ci spostiamo adesso a Trieste, andiamo a vedere il piccolo, edizione di Gorizia e Monfalcone, in questo caso, vediamo l'apertura, c'è solo un presidente, Trieste in campo, per Zeno, corri da stadio al porto, e commozione dell'incontro tra presidente e lavoratori, restiamo uniti, sospeso lo sciopero, il commissario Sommariva, convalida tutti gli atti già firmati, il nodo ricorso, stato sollevato dall'incarico dall'ANAC, l'Agenzia Nazionale Anticorruzione, eccolo qui, vedete, Zeno, eccolo qua, Zeno D'Agostino, che riceve l'ovazione e la solidarietà dei lavoratori che ha gestito in qualità di presidente dell'area portuale di Trieste. Dal piccolo, andiamo alla pagina interna su Gorizia, l'apertura della cronaca dell'Isontino, centro commerciale mai nato, debiti IMU, parte la caccia del Comune a 540 mila euro, il primo round alla commissione tributaria va ai proprietari delle aree di via terza armata, ma gli uffici presentano appello. Un progetto ambizioso rimasto solo sulla carta. Adesso andiamo sul gazzettino, vediamo il quotidiano diretto da Roberto Papetti, la prima pagina l'abbiamo già vista, la mostriamo velocemente di nuovo, si parla degli aeroporti riaperti in Veneto, tolti dalla black list europea degli aeroporti a rischio contagio, ma andiamo a vedere all'interno, vi dicevo prima della mappa che è il gazzettino della Pagella, una Pagella più che una mappa, una Pagella trasferita anche in grafica in questa immagine, il quadro complessivo della situazione dei contagi, l'incidenza settimanale di nuovi casi Covid-19 su 100.000 abitanti, l'incidenza è bassa sotto i 5 del colore verde, poi abbiamo in arancione l'incidenza intermedia, intermedia alta, e poi alta, quella che va oltre i 10, di colore rosso, dove c'è soltanto la Lombardia, poi al nord abbiamo di intermedio soltanto il Piemonte e la provincia di Trento, di Trento e Bolzano, poi andiamo a vedere invece per quanto riguarda il resto, sono tutte verdi, tutte verdi che vuol dire che in Italia la situazione è in diminuzione dappertutto, in aumento, la Liguria e la Lombardia, ma pur sempre però all'interno di parametri, la Liguria, di parametri che parlano di un'incidenza al di sotto dei 5 casi ogni 100.000 abitanti, quindi una situazione che sicuramente è in progressivo ormai miglioramento ancora di più. Le regioni passano il test, ma in Italia focolai attivi, il report del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, tutte con indice RT sotto 1, la Lombardia al limite è arrivata a 0,91, gli esperti, l'epidemia non si è ancora conclusa, piccoli cluster che però sono sotto osservazione. Adesso andiamo a vedere la pagina della nostra area di competenza che è il Friuli. Lubiana apre il confine a metà giugno, gli spara alla testa e invece sotto la testata caccia al complice, grave il giovane afgano colpito, la pista della droga. Qui invece si parla del virus in ritirata in Friuli Venezia Giulla, non ci sono focolai, la situazione in regione, criticità risolte. In basso invece la strage dell'austriaco, l'elettricista austriaco che ha ucciso due donne in Austria, passato il confine, è arrivato a Tarvisio, ha preso un caffè con gli amici alla Lepre e poi si è ucciso, si suicida a Tarvisio, avrebbe esploso altri due colpi di pistola, però all'arrivo, alla vista degli agenti della polizia di frontiera austriaca che lo avevano identificato come il responsabile del dubbio omicidio in Carinzia e poi sono andati a cercarlo in Italia dove lo hanno trovato alla Lepre e ha esploso tre colpi di pistola, i primi due a vuoto e il terzo rivolgendo la pistola alla Tempia suicidandosi. Adesso è stato molto scalpore anche perché era particolarmente conosciuto a Tarvisio dove si ricava spesso per lavoro ma anche per trascorrere ore di tempo libero. Adesso andiamo a vedere le pagine dello sport cominciamo ripartiamo dal messaggero Veneto per vedere di che cosa si parla si parla del caso dello stadio della Dacia Arena purtroppo il lockdown e il blocco dei campionati ha allungato le stagioni creando quel buco il campionato sarebbe dovuto concludere quello dell'Udinese a fine maggio quello del Pordenone un po' più avanti con i playoff ma alla fine dopo il 30 giugno purtroppo non è più possibile per il Pordenone soffrire della Dacia Arena perché deve giocare l'Udinese partite molto ravvicinate e dunque se arrivate a questa decisione il Pordenone vira su Trieste sullo stadio Rocco di Trieste dal messaggero andiamo a vedere anche la pagina di Palacanestro l'aveva anticipato aveva un po' bleffato l'altra sera con noi il Presidente Pedoni ma ormai sapeva che Boniciolli sarebbe stato annunciato a breve lo ha fatto ieri sera l'APU ufficializzando l'arrivo di coach Boniciolli con il contratto di un anno rinnovo in caso di promozione il coach convinto dal Presidente Pedoni ora bisogna completare lo staff tecnico e questa è una buona notizia per gli appassionati di Palacanestro perché vuol dire che dopo le incertezze del ribaltone dirigenziale la firma di Boniciolli significa che il progetto va avanti per il rinnovo di Capitano Antonutti altro passo importante è soltanto questione di tempo ma di ore a momenti arriva questione di dettagli così come per il nuovo General Manager che sarà Mauro che è stato anche protagonista si è segnalato come dirigente protagonista a Trieste prima poi delle note problematiche giudiziarie che avevano investito la proprietà andiamo adesso avanti e andiamo sul gazzettino sempre per parlare di sport andiamo a vedere il titolo di apertura cambiare stadio non sia un alibi questo lo dice Tesser per quanto riguarda il Pordenone Pordenone che andrà a giocare come detto a Trieste forse due partite riuscirà a farle anche alla Dacia Arena prima della chiusura e qui invece si parla di Balotelli finale triste e solitario con il calciatore del Brescia che è stato praticamente licenziato con una richiesta di risoluzione unilaterale del contratto da parte del Brescia vediamo adesso la gazzetta dello sport con gli articoli che riguardano anche l'Udinese in questo caso si parla dei portieri dei prestiti che l'Udinese non solo dei portieri ma dei prestiti in generale che l'Udinese ha in giro per l'Italia da scufetta a baracco l'Udinese ha un tesoro in prestito sono 14 giocatori in giro tra Italia ed estero che potrebbero tornare alla base mentre di spalla Gotti spinge ieri e domani doppie sedute Strugger ci si allena anche questa mattina l'Udinese fa una seduta di allenamento anche questa mattina seduta della quale vi parleremo in collegamento in diretta dalla Dacia Arena o dal Bruseschi con i nostri inviati questa è la pagina della gazzetta vi ricordo che la gazzetta dello sport tutti i giorni pubblica una pagina dedicata esclusivamente all'Udinese dunque se volete essere informati tempestivamente sulle vicende bianconere gazzetta dello sport ma anche il gazzettino che ha ampliato la sua offerta di informazione per quanto riguarda l'Udinese con delle pagine supplementari in aggiunta alla pagina che quotidianamente viene dedicata all'Udinese tre volte a settimana dunque due quotidiani che sono vicini alle vicende bianconere seguono l'Udinese molto da vicino dunque possono essere riferimento per essere informati sulla squadra bianconere la gazzetta dello sport andiamo a vedere i titoli di apertura sulle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali parla di Juventus la Juventus è pronta Scudetto Champions Ronaldo dice è un super atleta è tornato in condizioni perfette parla Bonucci ovviamente che vediamo in foto sotto al titolo Sarri è l'unico è unico gli piace farci giocare bene Allegri la top nei momenti duri no algoritmi in caso di stop meglio finirla lì e non assegnare nulla questa sembra essere la linea che seguono in molti con Buller rompe pure Agnelli che intrigo con Inter e Lazio per il difensore del Verona che diventa l'uomo mercato dell'estate poi Paquetà ed Eriksen col vento in Coppa Coppa Italia venerdì rossonera allo stadio sabato Nerazzurri a Napoli subito due gol nel primo test in Milan riscopre il brasiliano da quest'altra parte Conte rilancia il suo top player ecco i piani per la rimonta qui di spalle invece Serie A rovente occhio al fatto del caldo Sacchi va allenata più la testa dei piedi il modello è la Premier i club sono più autonomi qui contano troppo poco il piano B della Lega all'esame della FIGC tutto sport il doppio segreto di Sarri allenatore della Juventus che si appresta a guidare la squadra in questo finale di stagione Capello dà ragione a De Ligt che ha indicato nel tecnico la via italiana al calcio totale dell'Olanda l'allenatore della Juve ha una mentalità offensiva e in più si adatta ai giocatori che ha a disposizione sotto la testata ai Inter Cavani dice no il Matador sceglie l'atletico dopo Mertens e Werner sfuma un altro obiettivo caccia alle alternative da Aboumeyang a Belotti la nonna del Gallo e il Giallo Fidenze Toro primavera che va a Cottafava nuovo allenatore e poi si parla della prima squadra collezione Cairo le battaglie perse domani la FGC boccerà il blocco delle retrocessioni e purtroppo si va verso la conferma dell'algoritmo da Tebas a Miciche tutti i flop del patron Granata in Lega e poi la Fiorentina il presidente commisso Iachini ha avuto il virus lo ha rivelato proprio il presidente a Firenze lo ha beccato anche l'ex direttore sportivo dell'Udinese Daniele Pradè andiamo a vedere in basso invece grandi storie del tennis Tutto Sport oggi si occupa dell'asso argentino Villas Guillermo Villas il poeta idolo delle donne invece da quest'altra parte le notti magiche i gol negli occhi Italia 90 30 anni dopo un'intervista di Tutto Sport a Toto Schillaci che fu l'eroe indiscusso di quella elezione mondiale che finì male come sappiamo dopo la semifinale persa a Napoli dall'Italia contro l'Argentina ma si segnalò un Toto Schillaci super cannoniere qui siamo sul Corriere dello Sport la A spacca il calcio la B contro la Lega per il blocco di retrocessione e promozioni pronto a tutto se fermano il Benevento dice il presidente del Benevento che è in testa con una ventina di punti di vantaggio nel campionato di B e dunque in caso di blocco di tutto sarebbe fortemente penalizzato la soluzione in quel caso sarebbe soltanto blocco di retrocessione in A ma promozioni dalla B alla A confermate con una almeno le prime due e quindi con una serie A il prossimo anno a 22 squadre ma non vogliamo pensarci speriamo che si arrivi al termine della stagione Juve-Milan senza Ibra Sarri punta sul tridente qui si parla della Coppa Italia che aprirà questa nuova parte della stagione poi Napoli-Inter l'accelerata di Gattuso e Conte sempre per quanto riguarda la Coppa Italia di Spalla Roma i conti peggiorano sempre di più commesso Fiorentina mondiale e poi andiamo a vedere qui della Bundesliga Bayern lotta al razzismo e titolo vicino maia speciale contro le discriminazioni e poi finisce 4-2 contro il Bayern Leverkusen a Dortmund invece tutti in ginocchio per un minuto Bundesliga che sta andando avanti senza intoppi dopo la ripresa seguita al blocco per l'emergenza coronavirus in Germania vediamo adesso la situazione in autostrada prima di chiudere sono le 7 e mezza vediamo se c'è qualcosa da segnalare di particolare oggi le condizioni meteo non sono buone quindi difficile ipotizzare grandi spostamenti per quanto riguarda le strade che portano al mare andiamo a vedere alcuni eventi di traffico segnalati per lavori in corso in questo caso tra Portogruaro e il Bivio A4 A23 in direzione Trieste e poi uno scambio di carreggiata a causa di lavori in corso da San Giorgio e la Tisana sono tutti eventi di traffico che riguardano i lavori come potete vedere lavori per completare la terza corsia che sono ripartiti velocemente per provare anche a recuperare un po' di tempo che si è perso durante l'emergenza Covid-19 abbiamo una segnalazione anche sulla A23 in direzione Bivio A4 le corsie risultano a larghezza ridotta anche in questo caso per lavori in corso ed anche per lavori in corso quest'ultimo avviso di evento traffico sulla A4 Torino Trieste in direzione Torino corsie a larghezza ridotta a causa di lavori in questo caso verso Portogruaro dunque la situazione vedete ci presenta un quadro di molte segnalazioni alle quali prestare attenzione ma dal punto di vista del traffico non ci sono sicuramente problemi qui vediamo il tratto in direzione Milano dell'A4 a Gonars un solo mezzo pesante che si sta immettendo in autostrada non c'è assolutamente nessuno in circolazione come potete vedere qualche auto privata qui al Bivio A4 a 23 in direzione Milano immagini che sono una sequenza scattata pochissimi minuti fa alle 7.29 andiamo a vedere anche per scrupolo la baria dell'Isert ma oggi non dovrebbe essere una giornata di particolari difficoltà sulle autostrade della nostra regione qui alle 7.31 alla baria dell'Isert transita soltanto un furgoncino in uscita dall'area dalla grande area metropolitana di Trieste finisce qui la nostra rassegna stampa l'appuntamento con il prossimo live alle 10 anche oggi i telegiornali a tutte le ore del giorno 7 giorni su 7 i nostri notiziari che si aprono con la rassegna alle 7 per proseguire poi alle 10 alle 12 quindi alle 15 con lo sport alle 16 di nuovo con la cronaca alle 18 e poi con lo sport ancora e quindi alle 19 di nuovo la cronaca tutta l'informazione di Udinese TV per rimanere sempre aggiornati restate in nostra compagnia ci vediamo alle 10 tutti everybody qui Grazie a tutti.